Ristretto Italiano. Le news dal mondo sull'Italia. In principio furono i medici cubani. Bentrovati. Altro episodio di Ristretto Italiano, il podcast che ogni giorno vi riferisce ciò che su di noi si scrive e si dice all'estero e che oggi comincia prendendo in prestito dall'inglese Guardian i servizi sui medici argentini che vengono in Sicilia. Titolo? Voglio fare la mia parte. I medici argentini vengono in aiuto alla crisi ospedaliera italiana. Come i cubani in Calabria ma molto molto meglio in quanto gli argentini vengono in Italia da uomini liberi. A differenza dei cubani che come abbiamo trattato molte volte anche qui a Ristretto Italiano sono inseriti in un programma di lavoro interinale gestito dall'Havana lasciano al governo cubano oltre la metà del loro stipendio mensile e soprattutto non hanno la libertà di muoversi e di prendere iniziative fuori dal programma di cui fanno parte. Per gli argentini e mussomeli invece il discorso è molto diverso e vale la pena essere raccontato. Il Guardian lo fa raccontare ai diretti protagonisti, cominciando dalla donna che per uno di quegli strani incroci della vita si è trovata a dare una mano concreta alla sanità siciliana. Tutto cominciò quando Erika Moscatello, donna argentina di origini italiane, raccolse l'invito di comprare una casa a un euro a mussomeli. L'inizio dell'esperienza nel 2021 fu travolgente, salvo sperimentare quando il figlio ebbe bisogno di cure mediche urgenti, la semiparalisi della sanità siciliana. L'ospedale locale aveva chiuso pediatria e di lì a poco dovete chiudere anche ginecologia e chirurgia d'urgenza per mancanza di personale sanitario. Donna Erika non si perse d'animo, contattò un amico rettore dell'Università di Rosario in Argentina chiedendo se qualche medico dei suoi fosse interessato a un'esperienza in Sicilia. Estante la situazione drammatica di tutta l'economia argentina, in pochi giorni arrivarono 5.000 domande che si ridussero a 9 assunzioni. Quello di Mussomeli però non fu che un inizio dal momento che altri ospedali siciliani seguirono la stessa strada e ora nella regione lavorano 99 medici argentini. Pare che tra chi ha fatto domanda ci fossero anche un paio di medici del team sportivo di Lionel Messi. Il Guardian ne ha incontrati alcuni, come il dottor Alejandro Bertoletti, prima capo della cardiologia e trapianti di un ospedale di Buenos Aires, che seppe dell'università e dell'opportunità attraverso uno dei tanto vituperati gruppi di WhatsApp. Lui e la sua famiglia sono a Mussomeli ormai da un anno con uno stipendio di 3.000 euro che prima poteva solo sognare e che per di più non è divorato dall'inflazione. Quando dissi a mia donna che avrei lavorato nell'Italia che lei aveva lasciato, si commosse, ha detto al giornalista inglese. Poi ci sono Marin Venturini, chirurgo Laura Lator, gastroenterologa, per la quale ammette trapiantarsi da una città di 16 milioni di abitanti. Come Buenos Aires a una di 10.000 nel cuore della Sicilia non fu facile. E poi c'è il capo equip, l'italiano Giovanni Di Lorenzo, che sottolinea una cosa che l'ha molto colpita. In Argentina, dice, i medici non interagiscono con i pazienti, a loro ci pensano i parasanitari, come era qui una volta. E però, racconta Di Lorenzo, quando ha visto uno di loro abbracciare un paziente appena operato, si è detto è fatta, l'integrazione funziona. L'articolo del Guardian, che potete leggere integralmente nella newsletter, si dilunga a spiegare lo scatafascio della sanità italiana. Questo ve lo risparmio, lo conosciamo già tutti molto bene. Chiudo invece sugli argentini, precisando che su di loro pende purtroppo però una spada di Damocle non da poco. Le loro lauree non sono automaticamente riconosciute in Italia. E l'apertura di cui ora essi possono godere, ed è un'apertura maturata nei tempi dell'emergenza del Covid, scadrà nel 2025. Cito ora, per chiudere l'argomento, lo stesso argomento visto, diciamo, in controcampo in termini cinematografici, cioè visto dal Sud America. Infatti è il titolo, è il sito della rivista argentina Ambito, a scrivere, lavorare in Italia, cercano medici e infermieri argentini e pagano stipendi di oltre 3.000 euro. Ecco come e dove iscriversi. Assunzioni immediate. Articolo questo che va oltre Mussomeli e si allarga a progetti simili aperti in Lombardia, dove la regione assumerà 4-500 medici e infermieri provenienti dall'Argentina e dall'Uruguay. Due paesi questi scelti, dice Guido Bertolaso, che oggi, come ricorderete, assessore regionale alla sanità della Lombardia, due paesi, l'Argentina e l'Uruguay scelti, in quanto hanno buone scuole con programmi di studio simili a quelli europei. Ed è per questo che speriamo che le lauree verranno presto trascritte senza problemi e questi medici, che ormai si sono ambientati a cominciare a quelli in Sicilia, possano avere un futuro qui. Cambiamo ora completamente argomento. Passiamo al sito belga Data News sull'Italia che prepara la legge sulla privacy online dei minori, una normativa che dovrebbe rendere più difficile per i genitori mettere online gran parte della vita dei propri figli. Ed è una legge in linea con quella già approvata in Francia, rivolta sia ai genitori che caricano tonnellate di foto dei loro figli e soprattutto a quei blogger e a quei vlogger che mostrano la loro vita familiare, figli compresi, monetizzando le interazioni con i follower. Pensare ai Ferragnez, è tutto un attimo, come cantava Anna Oxa. Ebbene, quando il disegno di legge sarà legge, questi genitori dovranno passare immagini e video che intendono pubblicare prima al filtro di un regolatore e se da queste operazioni guadagnano soldi dovranno versare il ricavato su un conto corrente intestato al bambino. Sempre a proposito di ragazzi, sono tantissimi oggi i giornali e i siti francesi e belgi a raccontare della ragazza belga dimenticata in un autogrill italiano durante una gita scolastica. Di quelle cose che se le facciamo noi diciamo subito, ah, solo in Italia, cose del genere. E invece no, questa ragazza si è trovata improvvisamente sola di sera a De Senzano, sull'autostrada, senza capire né parlare una parola e senza sapere dove andare. Raccontano i giornali, come le Suar dal quale sto prendendo la notizia, che la ragazza è stata notata dai tifosi di una squadra di hockey, i Mastini Varese, che l'hanno vista piangere a Fontanella, che l'hanno consolata e contattando la famiglia sono riusciti a farla tornare a riprendere. Bontà loro, bontà degli insegnanti e degli accompagnatori. Voi ricordate quando un paio di settimane fa abbiamo parlato della battagliera direttrice tedesca dell'Accademia di Firenze e della sua lotta per la tutela dell'immagine delle opere artistiche, a cominciare dal suo, David di Michelangelo, dal Regno Unito, lo Scottish Legal riferisce dell'interminabile battaglia legale fra l'Italia e l'Arabesburg, una delle tante aziende produttrici di puzzle, che stanno usando l'immagine per i loro giocattoli dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Quindi non più solo il David. C'è l'uomo vitruviano, c'è la primavera, ci sono tutte le immense opere italiane. L'originale, tornando al vitruviano, è conservato nella galleria dell'Accademia di Venezia e l'immagine è stata usata una prima volta come emblema della missione spaziale statunitense Skylab 2 nel 1973, quella però era autorizzata, a differenza della miriade di altre pubblicate oggi su magliette, tazze, tazzini, portafogli, eccetera, eccetera, eccetera. Verso l'anno 2000 la Ravensburg, a questo punto sappiamo, lanciò il puzzle dell'uomo vitruviano da mille pezzi. Tutto vino liscio fino al 2019, e 19, quindi la ventina d'anni, quando da Venezia è arrivata la prima richiesta di royalties pari al 10% del ricavato delle vendite. Ravensburg rispose Marameo, ma il tribunale di Venezia li condannò a pagare. Ora però c'è un tribunale di Stoccarda che ha detto no, in quanto i diritti di produzione cessano in Germania 75 anni dopo la pubblicazione di un'opera. San Giuliano, il ministro, riprotesta a nome dell'Italia, afferma che non è ammissibile ignorare la sentenza di un altro Stato e annuncia di voler andare davanti a ogni tribunale nazionale, internazionale, europeo, mondiale, galattico, in ogni posto, in ogni lago, come cantava quell'altro cantante, e noi qui con i popcorn, a chiudere gli inesistenti spaghetti alla bolognese visti dall'Australia e WA Today da Perth a titolare il piatto italiano che gli australiani amano, sbagliandolo completamente. Quello che segue, annuncia l'articolista, è l'elenco dei modi più sicuri per infastidire un italiano, ovvero mettere la panna nella carbonara, l'ananas sulla pizza, spezzare a metà gli spaghetti e comunque la pasta lunga, mettere il latte nel caffè dopo le 11 del mattino e soprattutto menzionare un piatto chiamato spaghetti alla bolognese, perché in Italia gli spaghetti alla bolognese non esistono, ma se il ragù, sempre quello, lo versate sulle tagliatelle, allora si passa all'approvazione totale. Attenzione però all'altra insidia, quella di chiamare bolognese il ragù. È sempre lui il ragù, ma solo ragù si chiama. Carne macinata, preparata cottura lenta in un sugo con cipolle, carote, sedano e pomodoro. Dice anche che questo un tempo era l'espediente per fare mangiare le verdurine ai bambini. Ed è, racconta sempre l'articolo, una storia che nasce intorno all'anno 1700. Prima di carne se ne mangiava davvero poco, nasce intorno all'anno 1700 in contemporanea con l'omonimo ragù francese, che assomiglia però di più a uno spezzatino di carne. Ci volle però fino al 1982 perché l'Accademia Italiana della Cucina lo introducesse con ricetta vidimata nella Hall of Fame dei piatti italiani. «Chiedi a dieci bolognesi il miglior ragù della città», conclude l'articolo, e ognuno ti dirà un ristorante diverso. Ma in cuor suo, quell'ognuno, penserà solo al ragù di sua nonna. Vi saluto, vi auguro buona giornata, vi aspetto domani. «Ristretto italiano» di Ruggero Po.